Sindaco, si presenta oggi l'estate raffadalese con tanti appuntamenti, parliamone in maniera breve? Si, si parterà il 19 agosto, ci sono diverse serate che coinvolgeranno innanzitutto le professionalità locali con le bande musicali, poi una sezione di prodotti tipici, abbiamo serate dedicate ai giovani come la serata italiana oppure la corrida e poi abbiamo i diversi cabaretisti che verranno da Castiglia, Meri Cipolla, Gianni Nampa e due commedie di compagnie che sono della provincia di Regento, Cianciana e Cattoletti, diverse serate, la serata però è la settimana che abbiamo voluto coinvolgere e ripristinare, è quella che coinvolge i nostri anziani, il villaggio della gioventù, in cui ci sarà una settimana dedicata tutta allora. Abbiamo dato la nostra collaborazione a un'estate raffadalese che viene fatta con notevole impegno, che si cerca di rispondere all'esigenza dei cittadini e nello stesso tempo all'esigenza di quegli artisti che operano anche a raffadalese.